Ciao dalla sezione di registrazione del Comitato Organizzatore Locale di Cracovia. Sono Stella e questo è GMG in un minuto. La scorsa settimana, in collaborazione con l'Organizzazione Turistica Mauopolska, il Comitato Organizzatore Locale di Cracovia 2016 ha viaggiato su un camper nella Germania dell'Ovest per promuovere la GMG e per promuovere anche le attrazioni turistiche della regione Polonia. La promozione ha avuto luogo in molte città e università, in cui il numero di cattolici è di circa 10 milioni, e dove si trova Colonia, la città in cui è stata ospitata la GMG nel 2005. Più di 110 paesi parteciperanno all'incontro internazionale delle delegazioni, che inizierà la settimana prossima qui a Cracovia. Restate sintonizzati per il nostro prossimo episodio, in cui vi daremo tutte le notizie e le informazioni su questo incontro. Queste sono state le notizie di questa settimana. Fateci sapere cosa ne pensate e cosa vorreste vedere nel prossimo episodio. Pregate insieme a noi per la pace. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!